è arrivato un pacchetto per Rosita, un regalino da voi apri lo scatto, lo scatto è la carta sei pronta a aprire il regalino? aspetta Rosì Rosì che bello, è tutto per te dove stai Rosì? eccoli aspetta, ti stanno altre cose oddio ma abbiamo pure un profumello per te perché puzzecchi ma quanto è bella là dentro Rosita non ha visto questi Rosita che so guardate dentro altri per te Rosita me lo fai scartare Rosì per favore ma guarda i dettagli Rosita ma pure un costumino oddio Rosita me le fai prendere ma che bella che sei ma quanto sei guzzola